Circa nel 1820 è stata costruita nel territorio di Mesagni, una delle prime masserie a corta aperta. All'interno della masseria si respira un'aria di forte relax e naturale benessere. È possibile ogni giorno vivere secondo i ritmi della natura, senza frenesia. Il tutto è nato da un sogno, il sogno di poter svolgere un'attività in libertà, attraverso la cura delle emozioni di tutti gli ospiti che ci vengono a trovare. Noi siamo Master Elysium, noi siamo con orgoglio terra di Mesabi. Grazie 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 Grazie